Madonna santissima, santissimissimissimissima, perché veramente bisogna mettere le cose... Io non so sinceramente spiegarmi come questa partita sia stata portata a casa dalla Juventus. È un risultato incredibilmente importante in relazione a quello che abbiamo visto ieri tra l'Inter che non si ferma e stiamo lì, il Milan che si ferma e lo allunghiamo, il Napoli che sta tornando e quindi non vuole mollare ma noi sti tre punti qua non saprei spiegarli, non saprei spiegarli a parole. Non ce la faccio, quindi aspetto un po' anche le vostre letture qui sotto nei commenti. Io credo che sia stata una partita difficile da replicare, voglio dire così, difficile da replicare, perché se mi immagino di giocarla più volte sta partita qua non credo che possa finire in ugual maniera. Felicissimo per il gol di Miretti, felicissimo per il gol di Miretti, perché è il suo primo gol in Serie A, il suo primo gol con la maglia della Juventus. La decide lui, era entrato bene con l'Ellas Verona, ha fatto una buon partita ed è stata immediata proprio anche la reazione di Miretti nell'andare a trovare il gol. Noi andiamo avanti dopo dieci minuti, ragazzi. Dopo dieci minuti. E noi dopo dieci minuti non andiamo praticamente mai più a tirare in porta se non con un colpo di testa di Cambiaso nel secondo tempo che il portiere della Fiorentina butta in calcio d'angolo. Noi questa partita l'abbiamo giocata al 101% sulla fase difensiva, che poi secondo me la fase difensiva di oggi non è stata una fase difensiva di quelle impeccabili. Io credo che Rugani, Bremer, Gatti e Scesni, questi quattro giocatori abbiano overperformato, veramente hanno fatto una partita incredibile, ma la Fiorentina è arrivata spesso e volentieri alla conclusione. Io farei una statua a questi quattro giocatori qua, perché oggi se possiamo portarci a casa questa vittoria la dobbiamo a questo quartetto qui. Faccio un po' fatica anche a valutare il resto della gara, perché francamente nella Juve c'è stato troppo poco, cioè troppo brutti per essere veri, troppo brutti per essere veri. Non è stata una partita che mi è piaciuta, non è stata una partita nemmeno che mi ha emozionato, devo dirvi la verità. Io amo le partite, quelle sofferte, quelle di lotta, però secondo me è così un po' eccessivo, così un po' troppo. E quindi io mi auguro veramente che questo tipo di gare, questo tipo di punti portati a casa possano essere importanti per qualcosa di vero. Perché ora è inutile nascondersi l'evento se è a meno due dall'Inter, è inutile fare tanti giri di parole. La prossima ce l'abbiamo col Cagliari e poi quella dopo è lo scontro diretto con l'Inter. Quindi lo dico apertamente, noi non possiamo nasconderci, dobbiamo guardare alto. Però per guardare alto, secondo me, questo tipo di partite qua non è sufficiente. Veniamo da una vittoria con il Milan per 1-0, da una vittoria con l'Ellas per 1-0, una vittoria con la Fiorentina per 1-0. Noi dobbiamo fare decisamente tanto di più ragazzi, decisamente tanto di più. Perché se le nove vittorie di fila dell'anno scorso senza prendere gol ci hanno insegnato qualcosa, dobbiamo renderci conto che non è sufficiente. Senza giri di parole, che non è sufficiente perché stiamo veramente abbandonando una delle fasi che compongono una partita di pallone, una fase offensiva. Io questa sera inizierò a registrare le pagelle stanotte probabilmente o a buttare giù i voti stanotte. A Chiesa Ken non so che voto potrò dare, onestamente. Non so che tipo di voto si potrà assegnare. Vado verso il senza voto, però sei curioso di sapere anche un po' la vostra opinione. La cosa che secondo me è necessario sottolineare è che non è detto che seguendo questa strada poi si riescano a raggiungere i risultati che magari abbiamo in testa. Perché questa secondo me è proprio la cosa da mettere come focus in primo piano. Abbiamo chiuso la porta dopo Sassuolo. Questo è un dato di fatto, l'ennesimo clean sheet dopo Sassuolo. Però quanto poi sul lungo questa cosa ti dà dei benefici. Perché secondo me rischiamo di bruciarci. Io vi dico, il mood che avevo al termine dell'ultima partita è stato diametralmente opposto rispetto a stasera. Poi ovvio, certo, ragazzi, stiamo parlando da una parte di una vittoria vinta all'ultimo secondo come quella con Lella Sverona e dall'altra una vittoria che deriva da un gol fatto al decimo minuto. Però proprio la sensazione di avere una squadra diversa in mano e di aver visto qualcosa di diverso e che la tua squadra possa fare qualcosa di diverso contro un avversario, secondo me ci deve essere all'interno dell'analisi anche banalmente della prestazione. La cosa che voglio sottolineare più di tutte è come la Juventus ha gestito questo vantaggio. Perché appunto l'ultima partita abbiamo fatto gol all'ultimo minuto e invece in questa partita abbiamo fatto gol a dieci minuti dall'inizio tra l'altro con un macro errore degli avversari perché Parisi ha fatto una roba che sinceramente non si vede spesso in Serie A buon per noi, però poi tutto il resto della gestione della partita è stata una gestione portata completamente alla gestione del gol di vantaggio che avevamo avuto nel primo tempo. Quindi meraviglioso, godiamoci questi tre punti e guardiamo la classifica più che altro per goderci questi tre punti perché io l'unico modo che ho per godermi questi tre punti è guardare la classifica non ho altri modi per essere soddisfatto della partita di questa sera onestamente però guardo la classifica e dico cazzo questi tre punti sono importantissimi per permettermi di fare ragionamento di non perdere la scia dell'unica squadra che sta veramente scappando in Serie A che è l'Inter ma voglio anche rimanere con i piedi per terra e dire però queste partite qua se le metto nel mucchio è più facile che non finiscano con la porta inviolata perché veramente ci sono stati dei giocatori che hanno overperformato questa sera e senza le parate di Scesni che stanno diventando veramente una costante o le intercettazioni di Rugani, i ragazzi di Rugani credo che sia a mani basse la miglior riserva difensiva in Serie A in assoluto, forse se la gioca con davvero Darmian dell'Inter che in questo momento con Pavard anche se ora Pavard probabilmente è Navarra per un po' sta trovando un po' meno spazio quindi meraviglioso aver portato a casa sta vittoria perché io sinceramente non me l'aspettavo nel pre-partita e non la sentivo invece durante la partita perché ho banalmente pensato è impossibile che un gol non ce lo facciano se sono sempre ricca alla palla loro e attaccano sempre loro voglio concludere però dicendo anzi due cose che in realtà dopo il gol i primi dieci minuti non mi erano nemmeno dispiaciuti cioè fino al ventesimo, venticinquesimo la Juventus aveva toccato pochissimi palloni veramente pochi ma quei pochi che aveva toccato c'erano state due o tre azioni in velocità di prima che mi erano piaciute come in occasione del gol perché il gol della Juve nasce da una bella azione della Juve in realtà una delle poche volte che la Juve ha fatto qualcosa di questo tipo e un buon pressing alto perché c'erano stati dei momenti in cui Chiesa e Ken volevano tenere alti i giocatori della Fiorentina quando facevano possesso palata dietro il momento in cui abbiamo tolto sta roba qui è diventata una partita passiva e brutta e questa cosa non ci sta questa cosa veramente non ci sta ma Giorgione è per tutta la gara ieri avevo fatto un video uno short per tutti i new box che ho riportato nel video questa mattina su YouTube in cui vi chiedevo quanti giocatori avreste preso della Juve della Fiorentina io avevo preso Parisi Buonaventura e Nico Gonzalez e basta su tutti quelli a disposizione e secondo me c'è stata una grossa grossissima differenza di prestazioni tra le due squadre con tutta la caratura tecnica che pendeva invece dalla parte della Juve se non in pochi pochissimi giocatori questo deve farci ragionare deve farci arrabbiare anche secondo me ne deve anche farci arrabbiare perché ripeto io queste partite qua me le godo solo per la classifica biraghi non Parisi biraghi me le godo solo per la classifica solo perché posso guardare la classifica e dire cavolo come boh non lo so però è ancora troppo presto ne abbiamo giocate 11 ce ne sono ancora 27 non siamo ancora in una posizione comoda tranquilla da poter dire anche solo banalmente guardando per la qualificazione Champions perché poi ci sarà da capire quando arriveremo magari con un po' di distacco perché potrebbe accadere potrebbe accadere di avere un po' di distacco sull'Atalanta sulla Fiorentina sulla Roma sulla Lastra su quelle squadre che in questo momento sono sotto però puoi capire lì che cosa succede perché in questo momento noi stiamo andando avanti di inerzia di voglia in questo momento stiamo veramente andando avanti di voglia di dimostrare qualcosa però temo che non sia sufficiente perché stiamo veramente soltanto facendo la fase difensiva da qualche partita a questa parte tolta quella con l'Elas Verona abbiamo invertito completamente la tendenza perché con l'Elas abbiamo fatto tantissime occasioni un solo gol questa sera invece abbiamo fatto un'occasione e mezza e un gol quindi c'è tornato tutto indietro quello che che non era entrato con l'Elas all'interno di una partita che secondo me è sinceramente troppo brutta per essere vera ma voglio sapere anche le vostre opinioni qui sotto nei commenti ciao belli la classifica la classifica odiamoci la classifica grazie a tutti